Nell'incontro con la stampa organizzato dal riconfermato direttore generale dell'Asri di Teraum, Maurizio Rigiosì, ha voluto per presentare insieme all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri le linee programmatiche sul futuro dell'azienda sanitaria locale, si è parlato anche del nuovo ospedale su cui ad oggi non è stata ancora presa una decisione sulla location. Una delicata vicenda sulla quale oramai da anni si discute il nodo del problema e dove edificare il nuovo nosocomio. C'è chi come Asler Regione spinge per una nuova realizzazione fuori dalla città Piano Daccio e c'è chi preme come diversi comitati di quartiere, associazioni, ma ora anche amministrazione comunale per la riqualificazione totale nell'area del Mazzini a Villa Mosca, quindi dentro la città. Un tire molla su cui assessore Veri e direttore generale di Giosì hanno chiesto celerità al Consiglio Comunale di Teramo nel decidere e indicare il sito. Perché il nuovo ospedale è un'urgenza e un'occasione che non si può perdere. Parole che hanno visto la pronta reazione del sindaco D'Alberto, il sito da noi indicato, è e resta quello di Villa Mosca. Entro ottobre ci sarà il Consiglio Comunale straordinario sul nuovo ospedale di Teramo. La Regione ritiri la delibera dello scorso anno e ci dica dove e come intende trovare le risorse, visto che le somme ad oggi disponibili sono assolutamente insufficienti. E proprio su queste dichiarazioni il Presidente della Regione Marco Marsilio ha convocato a sorpresa una conferenza stampa a Teramo per le 15 di oggi per spiegare al sindaco D'Alberto tutte le negatività della location di Villa Mosca.